Stamattina è stata molto lunga perché non sono riuscita a prendere sonno e questa notte quindi non vedevo l'ora che ci fossero le prime luci del giorno per alzarmi. È la seconda volta che vengo a Casa Italia e è davvero un'emozione soprattutto l'ingresso e vedere così tanti italiani qui fa davvero un sacco piacere. Ce n'erano tantissimi anche allo stadio ma quando si arriva a casa, Casa Dolce Casa, la medaglia non l'ho ancora dato che la cerimonia ci sarà questa sera e quindi tra un paio d'ore riuscirò a recuperarla. A casa mi aspetta tutta la mia famiglia, tutti i miei amici e tutti i miei paesani e quindi non vedo l'ora di tornare a casa. Nelle ultime sere in cui gareggiavo il mio paese ha organizzato dei super maxi schermi e una bellissima festa quindi mi aspetto un abbraccio caloroso da tutti loro al mio rientro.